Io non la conosco! Ma che è la ministra? Perché? Ma la medicina me l'ha data lei? Ma che male è? Basta! Lei è veramente un paccio! Come si permette di fare questa affronta a mio marito? Mio marito? Il ministro? Il cardinale? Ma scusi tanto, eh! Ma lei chi è? Ci sono io? Io sono la moglie del ministro! E facci vedere il tuo ministro!